Cari amici, non avremmo immaginato di avere questo nostro colloquio avendo in Italia la crisi del governo. Abbiamo una situazione francamente imbarazzante, come se non avessimo abbastanza problemi, una situazione imbarazzante che sta screditando l'Italia in Europa e nel mondo. Direi di non perdere tempo a commentare questa situazione, anche perché è perfettamente inutile. Può succedere di tutto. Lunedì e martedì il Presidente del Consiglio si presenterà alla Camera e al Senato per verificare se vi è una maggioranza, dopodiché sapremo qual è il destino del governo italiano. Per quello che ci riguarda dobbiamo rimanere concentrati sulle cose concrete da fare che sono fondamentalmente due. La battaglia contro il Covid e la campagna di vaccinazione e la preparazione di idee progettuali per utilizzare i fondi europei con l'obiettivo di creare sviluppo, lavoro, per le nostre imprese, per i nostri giovani. Cioè vorremmo avere un'apertura di massa delle scuole dopo aver fatto, o perlomeno avendo avviato, questa campagna di screening e di controllo sul personale scolastico. Questo ci pare un atto di grande responsabilità e di tutela per gli studenti, per le famiglie e per il personale scolastico. Qual è l'obiettivo che persegue il governo della regione Campania? E qual è l'obiettivo che perseguo io in prima persona? Quello di fare della Campania è la prima regione d'Italia e la prima regione d'Europa a uscire dall'epidemia. Chiaro? Cioè io voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle per essere la prima regione che esce dall'epidemia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo fare un'operazione di straordinaria complessità, di grande difficoltà organizzativa al limite della pazzia. Ma sono convinto che noi siamo in grado di raggiungere questo obiettivo entro dicembre del 2021.